Oggi andiamo a Vaccarizzo, il più antico casale di Montalto, insieme a San Zisto dei Valdei e San Zisto, il vero. Vaccarizzo e San Zisto sono i più vecchi casali di Montalto. Per andare a vedere un gioco che esiste da secoli e che si pratica tuttora perché è un grosso momento in cui si ritrovano gli abitanti di Vaccarizzo. A Pizzotta viene chiamata, Oio Curuo Caso, è un gioco che rientra in quelli che sono gli annali di Montalto, di Vaccarizzo chiaramente, e che sembrerebbe di salga al periodo dell'età degli Aragonesi, quindi dal 1300-1400 al 1500 e via dicendo. e veniva praticato all'interno di Vaccarizzo, nelle strade che giravano dentro e fuori Vaccarizzo, fra squadre diverse e le squadre erano formate dalle varie etnie che vivevano a Vaccarizzo. C'erano l'etnia latina, c'era l'etnia valdese, c'era l'etnia arbresce. E quindi, ecco, agli inizi, quando la vegetazione era ancora scarsa, quindi non c'era l'erba alta, si facevano questi campionati, questa specie di torneo che poi serviva a mantenere buoni rapporti. Da una parte funzionava come una valvola di scarico per le tensioni che si accumulavano fra le varie etnie, dall'altra parte serviva a creare un momento di riappacificazione perché, ecco, lo sport da sempre, da una parte sempre che divide, però poi in ultimo unisce. Andiamo a vedere. Adesso si procede a preparare il lancio e consiste nell'arrotolare il formaggio con un lancio più lontano possibile. Adesso tocca al lanciatore dell'altra squadra far andare il più lontano possibile la pezza di formaggio. la curva, la curva! si deve ripetere il tiro perché si è rotto il laccio. in effetti partecipa, tutto il gruppo partecipa nel giocare perché le squadre, le due squadre, sono formate da un numero innumerevole di partecipanti, in dieci, in dieci, in venti, in venti, in trenta, in trenta, tutti possono giocare. il formaggio è andato fuori campo, adesso bisogna recuperarlo. Adesso tocca allangiare a uno dei migliori giocatori del Casale, di Vaccarizzo, è uno dei migliori, guardate che stile! ottimo lancio, bello, veramente potente, da giocatore professionista! è il capitano che dà consigli al lanciatore, ecco qua, così dopo fai prendere la curva. Alcuni sostengono che la vittoria il più dello si raggiunge arrotolando bene lo spaglio. è vero, è vero, è vero, è vero, è un segreto, è proprio che la professionalità si vede anche in queste cose. non sempre, non sempre! questi giochi anticamente servivano moltissimo per socializzare, per stare intieme alla comunità che si riuniva nei giorni belli. e poi come tutti i momenti di socializzazione non poteva mancare quello che è l'elemento principale di ogni momento di socializzazione, il vino, ecco qua. è venuto anche il momento di bere un buon bicchiere di vino. ecco qua, adesso tocca all'avvocato a lanciare la pezza. Avvocato cosa ci dite? a cosa è legata questa tradizione? questa tradizione è legata una volta a una sussistenza perché chi vince per il formaggio praticamente portava dei benefici anche familiari dove si scarseggiava come alimentazione, quindi diventava un momento di aggregazione al momento anche di sollievo perché... siamo arrivati al capolini, adesso si... è il momento del ritorno, si... torna indietro una volta le donne non partecipavano a questo tipo di gioco oggi invece cominciano a partecipare, assistono, partecipano attivamente, portano qualcosa da bere sono sempre presente anche loro, è un fatto molto, ma molto positivo se non vedete la chiesa della Madonna della Serra, il Duomo di Mondalto ha la faccetta principale rivolta verso Vaccarizzo secondo la tradizione, ciò è dovuto al fatto che la Madonna ha una benevole visione nei confronti di Vaccarizzo il principale estimatore di questa nostra Madonna sono proprio gli amici di Vaccarizzo brava, brava 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 quindi... la caratteristica principale è questa e quindi poi molto stagionale molto stagionale ecco si procede alla divisione della pezzotta tra i vari vingitori vengono fatti i segni, la squadra erano di sette quindi i vingitori sono sette cattordici partecipanti, sette vingitori forse sarebbe opportuno usare un bilangino con i grammi, eh? non deve dire che qualcuno si possa lamentare la squadra dei vingitori la squadra dei vingitori mangiare stasera fatte un compro fatte un compro formaggio non mangi stasera vieni qua ma chi siamo? vieni qua 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 adesso è il momento della conta il famoso tuo occhio per me, per me, per te la reggenda zia il conto chi non esce sceglie la prima pezza e l'altro come un capo il primo è il primo che prende la pezza e poi a seguire così com'era il giro il caso il pizzo del caso il pizzo del caso il pizzo del caso il paese Grazie a tutti.